è molto importante tenere il bicchiere del vino in modo corretto in questo modo dallo stelo per tre motivi che saranno il filo conduttore di tutte le tecniche di degustazione il primo motivo è perché bisogna vedere il vino e vedere come è bello ci dà tante informazioni la vista del vino possiamo portarlo comodamente al naso e non sentire il profumo della saponetta della nostra mano e il terzo motivo è che in questo modo non lo scaldiamo perché ricordati che la temperatura di degustazione è fondamentale per la piacevolezza di una degustazione